salve a tutti ragazzi e bentornati in questa rubrica riguardante i misteri e le curiosità sul mondo pokemon non so neanche io da quanto tempo non facevo video di questa tipologia ma mi era effettivamente un po passata la voglia di fare questo genere di video ora mi è tornata e quindi oggi vi porto questa quindicesima teoria questa teoria riguarda un pokemon di tipo drago leggendario molto conosciuto ovvero giratina se arceus è il dio dei pokemon allora è legito credere che giratina sia satana analizziamo un po di indizi che ci vengono forniti giratina è ispirata un basilisco il basilisco è noto come ra dei serpenti ora pensiamoci un attimo il serpente nella mitologia cristiana ma anche quella ebraica è considerato il simbolo del peccato ovvero l'animale che ha indotto adamo ed eva a a peccare e quindi a diventare portatori del peccato originale questo però non è l'unico indizio che ci viene dato infatti in pokemon platino viene detto che giratina è stato bandito da arceus per la sua violenza questa cosa è molto simile alla al racconto dell'antico testamento in cui viene affermato che satan era un angelo che ribellandosi a dio è stato cacciato dallo stesso dio dal cielo e spedito nel sottosuono non a caso giratina abita in un mondo diverso dal nostro il mondo distorto in pokemon platino abbiamo visto che cyrus viene condotto appunto nel mondo di giratina seguito dei suoi piani malvagi è giusto quindi supporre che il mondo distorto sia l'inferno il luogo in cui i malvagi vengono condotti l'ultimo indizio che può confermare questa teoria è forse quello più intrigante guardando l'immagine della forma alterata di giratina possiamo notare degli elementi strani infatti giratina ha sei spuntoni sulle ali sei costole e sei zampe il numero sei viene ripetuto tre volte e questo vuol dire 666 il numero del diavolo voi cosa ne pensate credete che giratina rappresenti una figura diabolica oppure pensate a una semplice coincidenza se volete il mio parere gli indizi sono troppo eclatanti per essere ignorati giratina sicuramente rappresenta un'entità diabolica ma l'intento della game freak probabilmente non era quello di inserire messaggi subliminali nel gioco dato che conosciamo o meglio sappiamo che la game freak è solita inserire pokemon ispirati a mitologia prima di chiudere il video però volevo farvi una domanda se arceus rappresenta dio e giratina rappresenta satana allora che cosa potrebbero rappresentare palchi ai di alga se avete qualche idea rispondete qua sotto nei commenti io vi saluto se il video vi è piaciuto mettete un like commentato iscrivetevi e noi ci becchiamo in un prossimo video